Grazie Presidente, vorrei fare un po' di storia del perché siamo arrivati oggi a questa PDA e a queste linee programmatiche e pluriannali sul commercio. A giugno, grazie anche al Movimento 5 Stelle che ha forzato la mano, siamo riusciti ad arrivare a una moratoria condivisa, non solo come moratoria e come strumento, ma anche negli obiettivi che ci si era dati, nelle motivazioni e negli obiettivi che ci si dava entro il 31-12, ovvero a scadenza di questa moratoria. Si era parlato che si faceva una moratoria a primo di luglio della durata di sei mesi che arrivava a fine anno, in questo tempo ci si era ripromessi di lavorare a una riforma complessiva della legge 6 che regola il commercio in questa regione. Quindi si era condiviso il fatto che c'era stato un forte squilibrio e i dati lo confermano, mi dispiace sentire il collega Brambilla che dice che i dati non sono ben chiari e si possono sempre interpretare. Io credo che ci siano stati dei dati che erano molto chiari, ovvero che in questa regione negli ultimi dieci anni ci sia stato un forte squilibrio tra la grande distribuzione e il negozio vicinato, il piccolo commercio e la filiera corta. Si era condivisa questa cosa, c'è stato fondamentalmente un silenzio, un far finta di nulla fino a fine settembre quando dalla giunta è arrivato un testo di modifica non della legge 6, bensì delle linee programmatiche del commercio. Quindi si era fatto un tutt'altro tipo di lavoro. Noi avevamo lasciato tempo in accordo con la giunta a giugno di raccogliere i dati e di fare un tavolo con le parti sociali per fare un'analisi seria e approfondita di quello che era la situazione, quindi una fotografia della situazione reale per poi avere in mano i dati e poter lavorare nei due o tre mesi, sapendo benissimo che erano comunque delle tempistiche contingentate, lavorare una seria riforma del settore del commercio. Il settore del commercio è un settore importantissimo in Regione Lombardia, è un settore che caratterizza particolarmente il tessuto economico e sociale di Regione Lombardia. Quindi si era preso a cuore questa situazione e si era cercato di fare questi passi. Ripeto, a fine settembre arriva un documento dalla giunta, un documento che era un documento a maglie larghe, 190 pagine dove c'era un'analisi con, sì, dei dati contrastanti e con delle analisi contrastanti e dei punti programmatici che si prefiggeva di rimandare poi alla giunta, quello per cui siamo qua oggi, così che potesse fondamentalmente strutturare delle linee programmatiche pluriannali per il commercio. Io lo vedo difficile che con delle linee programmatiche e con una PDA che non ha una forza di legge effettiva, quindi poi una delibera di giunta che non ha una forza di legge se non si è andati a modificare quelli che sono i criteri valutativi della conferenza dei servizi, quello che è il testo unico del commercio di Regione Lombardia, quello che è anche il testo unico relativo al territorio e al consumo di suolo, perché in queste linee guida c'è anche una parte di visione, di pianificazione che chiede di ridurre al minimo l'impatto al consumo di suolo. Lo si chiede sul terreno agricolo, noi avevamo forzato la mano, avevamo chiesto che si facesse di più, che si potesse fare di più e quindi vedere anche le aree libere, dato che comunque si parlava di aree di smesse, parliamo di qualche milione di metri quadrati in Regione Lombardia, quindi si poteva eventualmente andare a incidere su queste aree ed evitare completamente nuovi consumi di suolo. Quindi questa è un po' la storia per capire anche il perché il Movimento 5 Stelle ha preso in Commissione poi una strada differente dal resto della Commissione, non tanto perché nella sua globalità il testo non ci ha soddisfatto, nel senso che il testo contiene anche dei buoni elementi e siamo anche riusciti in talune parte ad intervenire e chiedere di emendare il testo e i nostri emendamenti sono stati accettati, nonostante il travagliato lavoro del gruppo di lavoro della Commissione, che ha visto fondamentalmente un lavoro di condivisione per due o tre settimane con diversi tavoli fino ad arrivare a settimana scorsa, quando si era trovata praticamente una quadra nel lunedì di una decina di punti condivisi da inserire nella programmazione commerciale dei prossimi anni e non si sa cosa è successo, tra martedì e mercoledì sono stati stravolti alcuni punti e giovedì mattina ci siamo trovati con un testo in teoria da discutere e poi da votare, in pratica come minoranze da accettare praticamente così com'era e non abbiamo avuto granché spazio per mediare e per portare avanti quelle che erano anche le nostre sensibilità. Quindi quello che chiedevamo noi, quello che c'era stato chiesto dalla maggioranza era una condivisione del testo e la possibilità di lavorare insieme, di condividere degli obiettivi e delle finalità nella programmazione commerciale dei prossimi anni, quello che è stato poi risultato è stato un grande lavoro di tessitura e di mediazione da parte del gruppo di lavoro e soprattutto da parte delle opposizioni quando la maggioranza aveva delle crepe enormi e penso che l'opposizione sia stata molto più che responsabile decidendo di rimanere seduta al tavolo quando avrebbe potuto tranquillamente abbandonarlo perché non si capiva neanche la maggioranza quali fossero gli obiettivi che si poneva e quindi la posizione è chiaramente difficile svolgere il proprio ruolo quando non si sa bene dove vuole andare e che obiettivi si prefigge chi sia di fronte, mi sembra un dato di fatto incontrastabile. Dopodiché passiamo al merito di questa PDA la nostra volontà è quella di non lasciare da soli i comuni a decidere sappiamo benissimo che i comuni oggi si trovano in una situazione di difficoltà soprattutto economica evidente ed è naturale io penso delle volte per un amministratore locale dover scendere a compromessi quando si trova un bilancio ritagliato in ogni sua parte e il taglio dei trasferimenti da parte degli enti che lo sovrastano soprattutto a livello statale dover scendere a compromessi con chi offre delle garanzie di entrata non indifferenti quindi parliamo di oneri di urbanizzazione e di tutti gli oneri accessori che sono legati alle grandi e alle medie strutture il nostro obiettivo era aiutarli quindi capire e fare una programmazione seria per evitare che si creassero delle polarità che vanno a distorcere completamente un tessuto economico e sociale di alcune zone, possiamo pensare alle zone dell'Interland di Brescia ad esempio che si trova in una situazione paradossale con decine di centri commerciali di varia natura con un outlet che viene definito oggi e non viene inquadrato nei parametri della grande distribuzione organizzata o delle grandi strutture di vendita ma viene bensì considerato come una sorta di accorpamento di negozi di vicinato quando si trova a 10 km dal centro urbano ed è una cosa tutt'altro che centro commerciale naturale come a noi piace vedere mentre quando si raccolgono i dati a livello statistico e anche qui la statistica sicuramente qualche problema ce l'ha quando va a valutare una situazione che non è assolutamente reale rispetto a quello che poi va a spiegare quindi va a spiegarci che un outlet non è un centro commerciale ma è un centro commerciale naturale questa situazione non è così parliamo di consumo di suolo siamo riusciti a condividere una parte del percorso per quanto riguarda lo stop al consumo del terreno agricolo è stata difficile nel senso che qualcuno ha provato anche in commissione a mettere in dubbio la possibilità del consumo di suolo agricolo dicendo che se un terreno era abbandonato forse era meglio costruirci un centro commerciale ecco a me viene un dubbio e vorrei capire cos'è un terreno agricolo abbandonato quando l'erba è alta un metro, due metri, un metro e mezzo mi sembra che ogni tanto si cerchi anche in questo consiglio di distorcere la realtà a vantaggio delle grandi lobby di chi vuole portare avanti i propri interessi e non il benessere della società e della cittadinanza e del nostro territorio quindi per quanto riguarda il consumo di suolo noi abbiamo cercato di forzare la mano di parlare anche di aree libere in genere e non solo e queste cose che sto andando a spiegare le abbiamo inserite anche in una quindicina di emendamenti che abbiamo presentato però dicevo non solo le aree agricole e le aree agricole strategiche ma anche le aree libere in genere di modo che si possa andare eventualmente a ribonificare alcune aree a rivalutare alcune aree di smesse che sicuramente rovinano il patrimonio urbanistico di un comune evitando di andare a consumare ulteriore suolo visto che non ne vediamo assolutamente la necessità abbiamo parlato dei negozi di vicinato abbiamo condiviso i passaggi dove si parla di valorizzazione dei distretti urbani del commercio e del negozio di vicinato però avremmo voluto che si fosse molto più stringenti in tal senso e si valorizzasse davvero quello che è il negozio di vicinato e qual è il suo ruolo il suo ruolo economico perché ha un ruolo economico non indifferente un ruolo sociale che è quello della persona anziana che non può recarsi al centro commerciale e ha i servizi di prima necessità i negozi che vendono i beni di prima necessità vicino a casa il ruolo sociale è un ruolo legato anche alla sicurezza urbana una vetrina accesa lo ricordiamo tutti la sera dà sempre un senso di sicurezza e anche tiene lontano quelli che sono gli elementi di insicurezza che generano e caratterizzano un centro urbano o un centro cittadino e tornando sempre al ruolo sociale ha anche un ruolo sociale in termini lavorativi perché se è vero che qualcuno ci dice che la grande distribuzione poi vediamo nei dati che non è vero ma la grande distribuzione genera questa grande occupazione torniamo anche a parlare della qualità dell'occupazione che viene generata dalla grande distribuzione parliamo di sistemi di franchising o di negozi che sono spogliati dalla loro veste di piccolo commercio sono inseriti in un altro contesto un contesto che chiaramente ha un ruolo sociale di impatto minore sul lavoratore quindi si offrono dei contratti spesso che sono contratti interinali dei contratti i cosiddetti contratti atipici che non garantiscono la sicurezza lavorativa e il benessere dei lavoratori quando invece di contro abbiamo dei negozi vicinati che spesso caratterizzano i centri locali i paesi dove fondamentalmente se io sono un negoziante spesso mi trovo in una situazione che i miei due dipendenti sono il mio vicino di casa il figlio il cugino il nipote quindi ho anche un'altra sensibilità nel trattare nel gestire un rapporto di lavoro quindi per noi anche questo è una questione di rapporto sociale senza dubbio serviva una una pianificazione dicevo che identificasse le polarità e fosse in grado di prevedere una programmazione una pianificazione quindi vengo nel mio intervento chiaramente in antitesi a quello che mi ha preceduto di Gallera perché per noi era fondamentale una programmazione appunto per dare una mano ai comuni e per programmare evitare la sovrapposizione e una forte polarità di grandi strutture di vendita in certe zone e per concludere un intervento in merito alla conferenza dei servizi ecco si è detto molto ho detto per noi non è soddisfacente perché bisognava intervenire sul testo unico in materia di commercio per essere veramente incisivi e non fare delle linee che anche se in alcune parti contengono molto buon senso noi non condividiamo bisognava anche fare un intervento e abbiamo chiesto a più riprese di poter parlare di poter prendere in mano la questione della conferenza dei servizi noi sappiamo che la conferenza dei servizi prevede una serie di punteggi e di premialità che sono caratteristiche di una situazione del tessuto commerciale lombardo relativo al 2006 di mezzo c'è stata una crisi che dura ormai da sei anni che ha cambiato completamente le esigenze e il contesto del tessuto economico e sociale della nostra regione quindi quello che chiediamo e quello che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere è di poter intervenire con urgenza sui punteggi e sui criteri che determinano poi l'approvazione o meno di una grande struttura di vendita attraverso la conferenza dei servizi io sono andato a spulciarmi qualche risultato della conferenza dei servizi e ho notato ad esempio che il punto relativo all'impatto zero si parla non solo di impatto ambientale ma anche di impatto economico e sociale in molti di questi casi ad esempio il punteggio è relativo a zero perché c'erano altri punteggi che poi valorizzavano la struttura e quindi che permettevano di superare il punteggio minimo per poi avere l'ok della conferenza dei servizi e poter procedere con la costruzione della grande struttura quello che noi chiedevamo ad esempio era sulla questione dell'impatto economico e sociale di mettere un punteggio di sbarramento che ci sembrava una questione di buonsenso io vengo dal mondo delle imprese e lavoravo con bandi di regione Lombardia regione Lombardia in molti dei suoi bandi prevede in alcuni passaggi in alcuni punti che si raggiungano a soglia minima quindi magari in altri passaggi del progetto si possono raggiungere punti massimi ma se non si raggiungono in dei punti strategici dei punteggi minimi il progetto non viene neanche valutato e noi chiedevamo e chiediamo che si possa lavorare in questo senso quindi noi diciamo che questo documento non ci soddisfa in toto non lo sosteniamo e non lo facciamo sicuramente nostro d'altro canto continuiamo a sostenere che noi collaboreremo in ogni caso sempre per migliorare i documenti e per cercare di condividere il più possibile come abbiamo fatto in questa occasione dove abbiamo dovuto comunque lasciare il passo nelle ultime fasi perché il documento è stato completamente stravolto e non c'è per nulla soddisfatto grazie 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 grazie